Riapre il centro prelievi del Bottazzi a Torre del Greco. Il punto per i prelievi, ubicato al piano terra del distretto 57 di via Marconi, era stato chiuso nel mese di gennaio, quando il sistema informatico dell'ASL Napoli 3 Sud era stato hackerato. Una situazione che aveva di fatto compromesso quel servizio e non solo. In quell'occasione, infatti, furono sottratti alla rete informatica dell'azienda sanitaria locale il 90% dei dati. È possibile accedere al centro, nuovamente operativo dallo scorso 5 settembre, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 8 alle 10, previa prenotazione al CUP o presso le farmacie del territorio, per effettuare il prelievo e successivamente per il ritiro delle analisi. In particolare, è possibile prenotarsi al CUP distrettuale nelle giornate di martedì e giovedì. Buone nuove dunque per l'utenza di Torre del Greco, che nuovamente potrà usufruire di un servizio nel pubblico, senza doversi spostare anche per un prelievo o ricorrere ai centri a pagamento. Non manca l'affluenza dalla riapertura, destinata ad accrescersi nei prossimi mesi con una maggiore informazione alla cittadinanza.